il tema degli migranti c'è chi è ostile e c'è chi è solidale la realtà è che noi siamo davanti a un fenomeno epocale che riguarda tutto il mondo occidentale e se vogliamo rifletterci sopra un fenomeno che gli stati uniti hanno affrontato prima di noi con migrazioni epocali dal messico di milioni di milioni veramente di persone che dal messico scappava negli stati uniti con tutta una polemica politica economica sul controllo delle frontiere sulle muraglie muraglioni eccetera eccetera dopodiché io credo che si debbano fare due riflessioni la prima che faccio è questa io personalmente sono favorevole a una società multietnica ma ho rispetto delle persone che invece preferiscono una società mono etnica prezzo una società nella quale io esco qua per strada e vedo persone di ogni colore di ogni razza di ogni religione è una mia sensibilità io lo apprezzo mi piace capisco e rispetto che giacomo moscarola per dire una persona invece preferisco una società mono etnica dove sono tutti i piemontesi parlano in dialetto hanno tutti la stessa religione io lo capisco e non so neanche dire che cosa sia meglio se è la sua o la mia dico quello che preferisco io politicamente quello secondo me di cui dobbiamo renderci conto è che invece il fenomeno che stiamo vivendo è un fenomeno che prescinde da quello che pensa marco cavicchioli o da quello che pensa giacomo moscarola entrambi legittimati a farlo è un fatto che noi subiamo perché avviene come avviene l'inverno a me l'inverno personalmente non piace ma non è che continuo andare in giro in canottiera perché non mi piace quando arriva l'inverno mi devo coprire devo assumere degli atteggiamenti che mi consentono di gestire una situazione perché l'inverno arriva che mi piaccia o che non mi piace arriva lo stesso e così il fenomeno che stiamo subendo in questi anni e dico subendo perché è chiaro che crede il disagio crede il disagio alle comunità locali crede il disagio a queste persone perché non c'è nessuno che voglia di partire dal pakistan per venire fino qua ed essere accolto magari male nessuno ha piacere di fare questo genere di cose lo fa perché intravede delle prospettive intravede delle possibilità che altrimenti non avrebbe perché parte da una condizione difficilissima dopodiché io credo che una riflessione vada fatta su un altro punto di vista ormai sono due anni che queste persone arrivano a biella saranno passate più di mille persone molte di più perché poi alcuni sono fermati poco però in maniera stanziale almeno 500 sono sempre rimaste altre sono rotate sul territorio ecco la mia domanda è quali problemi abbiamo avuto come città quali problemi ci sono stati significativi importanti come città capisco che ci sia un fastidio nel vedere queste persone come c'è il fastidio di alcuni non certo del sottoscritto nel vedere il disabile il fastidio nel vedere la povertà il fastidio nel vedere la malattia ma diciamolo il problema è questo c'è del fastidio a vedere queste persone e questo problema perché dal punto di vista della sicurezza del questore è stato chiarissimo a dire biella è un'isola felice anche se qualcuno vuol far pensare al contrario e giardini zumaglini sicuramente c'è qualche problema di disagio ma viene enfatizzato da chi lo vuole strumentalizzare perché i giardini zumaglini io me lo ricordo perché io abito a biella da sempre non li potevi attraversare vent'anni fa quando c'era il problema della tossicodipendenza non li potevi assolutamente attraversare né di giorno né di giorno sì ma di notte no perché erano pericolosissimi molto più di quello che sono oggi poi se uno mi dice a me da fastidio vedere una persona di colore è un altro discorso grazie a tutti